Se dovessimo raccontare questa partita, al di là di quello che è stato il risultato, nessuno crederebbe a quello che è accaduto? No, è stata una partita, non lo so, non stregata, non meritavamo questo risultato e non c'è una ragione per cui sia andata così in realtà. Allora fuori commentavano in questa maniera due tiri, due gol, voi avete tirato dall'impossibile, qualcuno direbbe pure da casa propria, però la palla non è andata dentro. Sicuramente non dobbiamo imparare ad essere più incisive, cosa che adesso ci manca perché in effetti loro hanno fatto due tiri, due gol e noi abbiamo tirato per tutta la partita, abbiamo fatto solo un gol. Avete fatto solo un gol, poi tra l'altro mai come in passato, ma questa partita veramente qualcosa in più doveva venire fuori, spesso si è state accusate di non tirare, quest'oggi l'avete fatto forse oltre il dovuto. Sì, è venuta fuori una grande squadra in realtà, un bel gioco, purtroppo manca sempre qualcosa. Serviva uno scossone, uno scossone c'è stato, Coletta vi ha dato una carica, è mancata adesso ripagarla a lei in parte ma anche dare coraggio. Quanto manca questa vittoria a questa squadra che tra l'altro contro una squadra il Real Torzapienza che con voi non aveva mai avuto buona sorte? La vittoria manca, i tre punti sono fondamentali e dovremmo fare tutto il possibile per raggiungerli. Si può comunque fare, la convenzione in voi c'è, manca adesso dimostrarlo in campo? Si può fare, si può fare. Grazie a tutti.